Ciao ragazzi, un nuovo video di Amato Reality e quest'oggi analizzo tutte le squadre da Isola a All Stars disponibili, presenti, in qualche modo realizzate, nel nostro amato reality. Ovviamente non contro i Don Cruz Race e le Origini perché sono due spin-off completamente differenti che anche, per dire solamente RR, non va a creare una vera e propria squadra ma effettivamente solamente coppie. Le squadre saranno 13, un numero dispari perché il tour ne possiede 3 e ovviamente penso che tutti voi sapete anche i motivi. Andrò ad analizzare ogni squadra in base a qualche premessa e a qualche indicatore. In primis i concorrenti. Concorrenti si intende dunque tutti i personaggi partecipanti alle squadre subentrati o cambiati in corso appunto della varia stagione per considerazione. Il gioco di squadra sarà un elemento fondamentale. Vi sono squadre che io ho inserito in una bassa posizione di classifica in maniera crescente, dunque dal tredicesima alla prima posizione, perché magari sono giocatori che in quel contesto di stagione, secondo me, hanno giocato poco di squadra oppure sono prettamente individualisti. Le sfide vinte in rapporto con le disputate sotto o comunque insieme ad ogni squadra analizzata andrò a inserire effettivamente questo rapporto che va un po' a farvi capire come indicatore quello che sono state le vittorie, le esultanze della squadra in merito a quelle disputate come sfide. Ogni stagione ovviamente va contestualizzata. Ci sono alcune stagioni dove sono fatte tantissime sfide e qualcun'altra molto meno. O comunque io mi sono affidato alla wiki presente su internet, insomma legata alla tutta reality. I pro e contro della squadra dunque analizzerò in maniera oggettiva e soggettiva quello che è stata la dinamica interna nel gruppo e poi la classifica ovviamente crescente. La prima che va ad analizzare è la tredicesima, l'ultima sarà la prima. E l'ultima purtroppo è la squadra della vittoria che di vittoria non ha niente. Su 15 sfide disputate, non ve ne sono di più perché ovviamente non ha manco partecipato, solamente a due vinsero. La squadra non mi sembra davvero un granché o meglio a vederla così come è stata nel tour, quindi la stagione che ne presentava tre, i personaggi individualmente, perlomeno qualcuno, mi sarei aspettato che avessero avuto un ruolo preponderante. Vedere Lesciana dopo il magheggio avuto all'isola, dopo anche comunque una brutta prestazione sul finale di azione che alla fine poi l'ha anche cacciata, dato che è bene vista come una chiacchierona che parla alle spalle, mi sarei aspettato un riscatto di Lesciana. Invece da quel momento in poi Lesciana va solo che a cadere, così come Bridget, Lindsay e chiunque prende questa squadra. Quindi i pro in realtà è solo una squadra di heroes, perché tra tutte e sei, tolto forse Zikia, ma per quello che ci ha fatto vedere non mi sembra così tanto cattivo, anche se secondo me è più villain che hero, sono giocatori concorrenti che non dà un fastidio a nessuno, forse Lesciana sì, è quella determinata, è quella grintosa, ma onestamente restanti quattro era evidente che messi insieme senza un leader avrebbero fatto pochissimo e niente. Un contro particolare è proprio la squadra scarsa, disorganizzata, un sottotono generale, Lindsay che secondo me avrebbe dovuto vincere in azione con un percorso davvero crescente, qui è stato un declino totale, ma così come Harold mi ha davvero deluso in questa stagione, DJ non ne parliamo perché è un personaggio che voleva uscire fino alla fine e poi nel momento in cui voleva rimanere esce, Bridget anche essa delusione totale, Ezekiel effettivamente fa la sua parte di uscire per il primo e Lesciana non sa riscattarsi, conseguentemente di vittoria, ripeto, non c'ha nulla. E poi ricordiamo un altro conto di questa squadra è essersi fatti manipolare da Alejandro, persino l'ultimo DJ effettivamente fino alla fine è rimasto preda in balia di Hal stesso. E dunque purtroppo questa squadra merita l'ultima posizione. In duecina posizione inserisco i ratti tossici, una squadra comunque arriva a vincere su otto partite, su otto sfide, solamente due e ovviamente il pro di questa squadra è il carattere di Scott che lo voglio mettere nel pro per quale motivo? Perché grazie a Scott questa squadra era un minimo animata, era un minimo vivace, ovviamente il negativo. Io, qua voglio dare quindi la mia soggettività in questo parere, se non ci fosse stato Scott questa squadra sarebbe stata super anonima. Il fatto che ci sia stato ovviamente ha creato quello che è un grande contro, che già vi dico, ovvero una generale ingenuità. Scott elimina Dakota, B, Don, vota contro Sam insieme a Brick, se non ricordo male, ed elimina Mike, quindi su sei personaggi presenti, li fa fuori praticamente tutti, tolto Lightning che è quello che andrà a vincere. Quindi Scott in questa stagione è stato un vero villain che è riuscito a manipolare l'intera squadra. Di fatto una squadra dal poco gioco. Io non ricordo praticamente nulla di interessante in questa squadra, se non Scott come carattere, se non anche l'abitore di Lightning, perché da questa squadra ne esce quello che è il vincitore e la conquista di Sam in relazione all'amore verso Dakota, poi Dakota Zoid. Tutto il resto fa numero e mi dispiace perché per me B è un gran personaggio, attivo soprattutto, anche se non parla, creativo, astuto, Don molto particolare che assolutamente la devo esigo, rivedere, e Stessi purtroppo fa la parte di Ezekiel, fa la parte di Beardo, come Poimpakitev, che è il primo giocatore ad essere eliminato e non sappiamo neanche effettivamente qual è la sua potenzialità. Quindi, ahimè, questa è una squadra che purtroppo non mi ha detto niente. Quel poco, ecco, è proprio individualista di qualche personaggio, ma come squadra davvero molto ingenua e molto disorganizzata. Undecissima posizione per i macchinisti assassini, di cui è giusto dire che subentra Courtney durante appunto azione. Una Courtney viziatissima, secondo me la peggiore Courtney vista nelle quattro stagioni che ha parecipato, e quindi anche qui in realtà non è che ha più di tanto aiutato. Poi mi pare che l'episod dopo in cui lei entrò, le squadre si sciolsero, quindi che lei ci sia stata o meno, non ha fatto grande influenza con la squadra. Su 15 sfide, tre vinte da questa squadra, che a vederla comunque non è così scarsa, perché comunque tanti concorrenti interessanti, infatti l'ho ripetuto anche qui, perché Beth è colè che arriverà a vincere, Justin in questa stagione, secondo me, ha un exploit assurdo, è uno dei veri villain della stagione stessa, seppur molto silenzioso, ma riesce ad arrivare in quinta, quarta posizione. Lindsay non arriva alla finale per tanto così, Owen, per quanto torna corrotto nella squadra, grazie a Chris, o quando in realtà le quali sono sciolte, ha comunque fatto un bel percorso, Trent e Easy, secondo me, sono da lasciare stare. Tanta fortuna ha avuto questa squadra, perché per l'appunto Easy torna una seconda volta, così come nell'isola, perché se vi ricordate, venne eliminata Kaleido. Entra Courtney, e DJ si auto elimina al posto di Lindsay, quindi non solo questa squadra, purtroppo a livello di squadra, è scarsa, ma è stata anche molto fortunata, e si sarebbe potuta svetolare molto prima. Infatti è poco vittoriosa, ha un poco gioco di squadra, io ricordo molto, infatti gli individualismi, prevalgono dinamiche individuali. Di ogni personaggio vi so dire una caratteristica che non aiuta la squadra. Courtney viziata, Trent ossessionato, Owen, in realtà nel gioco di squadra ci sa fare, ma talvolta anche no. Lindsay e Beth, forse una coppia che si salva, ma pensano molto a loro stesse, a non farsi male, e ad aiutarsi, ma fra di loro due, più che altro, Isi, la classica folle, che come ci ha abituato anche nell'isola, è Justin molto egoista, quindi una squadra di personaggi tra di loro opposti, che effettivamente hanno scatturito poche dinamiche interessanti. Salmoni nuotanti, o che nuotano, perché sulla wiki c'è scritto che nuotano, è una squadra di Pakitev che vinse su sette sfide giocate, disputate solamente due, ricordando che Max verrà inserita a posto di Sky, perché si era visto appunto che Sky aveva una mezza tresca con Dave, e quindi si ci voleva allontanare da essi. Una squadra che non è che mi abbia detto tanto, infatti c'è poco gioco di squadra e individualismo. Anche qui, personaggi messi un po' a buffo, Emi e Semi inserite per la loro rivalità interna, nulla a che vedere con il gruppo, Sky che pensava molto a Dave, Max che si è messo molto con Scarlett, Rodney per le nuvole, Toffer il suo unico impegno è quello di emulare Chris, e forse Jasmine ha delle poche che si salva, in Pakitev, come giocatrice di squadra, unica e vera leader indiscussa. E posso dire in realtà che il pro di questa squadra sono stato un po' le donne, perché i maschi, anche Max, comunque quando entrava in questa squadra sono stati molto stupidi, molto ingenui, molto giocherelloni, sia Rodney, Christopher e Max, mentre le femmine, a partire da Emi, una vera villain purtroppo sprecata, a Sky, che comunque arriverà in finale, o ancora Scarlett, la pazza ragazza che arriverà a distruggere tutto, almeno questo è quello che vorrebbe, a Jasmine, che poi è una lesciana reincarnata che arriva a vincere, quindi sicuramente molto interessanti le donne, ha invece di scapito degli uomini. Non ho posto, e mi dispiace poterlo dire, ma la squadra Chris è super 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 fico, oppure detta anche Chris is really 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 hot, forse ancora più empatica da dire, la infezza solamente alla non-opposizione, questo perché in rapporto di sfide vinte, su 15 solamente 5, che sono un po' poche, tenendo conto che loro vincono, perché la squadra della vittoria si sta svitolando, e quindi hanno possibilità di vincere, visto che gli altri sono davvero scarsi. Ricordo ovviamente che il nome, però assolutamente, e questo Sierra insegna, Sierra Docet, è assolutamente fondamentale, perché è il mio preferito. Io mai mi sarei aspettato, per quanto sia un dettaglio, forse poco rilevante, per molti di voi, di ritrovarmi una squadra con questo titolo. È meraviglioso, è una genialata, che solamente Sierra poteva sparare. Aleandro l'ho inserito, sia nel pro che nel contro, perché il pro di Aleandro, è riuscire finché, è riuscito appunto, a tenere le fila del gruppo. L'unico che forse non è riuscito, fino alla fine, a tenere sotto controllo è Duncan, ma Duncan subentra, come scritto, non fa parte delle dinamiche interne, e alla fine, tutto sommato, ormai verso la fine, era normale, scontato, che sarebbe stato lui, a uscire, e non Aleandro. Ma il contro è stato proprio, che Aleandro riusciva, a smantellare la squadra della vittoria, a mettere dissapori qua e là, ma allo stesso tempo, a creare distensi, anche all'interno della squadra, perché Noah, Tyler e Easy, per un motivo o per un altro, sono stati in qualche modo manipolati, e Noah, ricordo bene, che fu anche il primo ad accorgersene, ma ormai è troppo tardi, perché stava per volare giù dall'aereo. Quindi una squadra, principalmente, dominata da Aleandro, nel bene e nel male, insomma, finché ha fatto comodo, se le tenuti, nel momento in cui Aleandro, doveva scegliere chi eliminare, in maniera vicida li ha eliminati. Ottava squadra, le carpe assassine. Qui già mi si apre un mondo di nostalgia, perché se penso che le squadre nel tour, sono di 5 giocatori barra 6, addirittura qui ne troviamo 11. Su 12 sfide, disputate, solamente 5 vinte. Una squadra genuina, poco assassina, chiamarla carpe assassina, non trovo bene il motivo, ma di fatto, tolto Eva ed Ezekiel, che escono subito, alla fine arriva nel Duncan, ma è un Duncan non villain per me nell'isola, è un personaggio, sì, dispettoso, litigioso, verso Harold, ma in realtà, lo fa sempre in maniera, forse, buffa, giocherellona, mai, veramente, perché vuole far del male ad Harold, ma perché c'è questa disfida interna, che, comunque, insieme a Jeff, aggiungerei forse anche DJ, si crea un poker di maschi, niente male, insomma, era una bella alleanza, una bella amicizia, secondo me, e poi anche le fiamme, in tutto sommato, tornando nel corso di prima, Bridget, Courtney, Katie e Sadie, sono personaggi, almeno pure Courtney, in questa squadra, in questa isola, che non fanno il male a nessuno, Tyler è lì relegato, non messo a caso, perché forse di tutti questi, è quello che davvero, mi ha detto di meno, mi ha detto più Ezekiel di Tyler, poi per fortuna Tyler, sa riscattarsi un minimo nel tour, il contro, è che nessuno, arriva in top 3, infatti Duncan, arriverà ad essere quarto, conseguentemente, le carpe, non piazzeranno, neanche un loro giocatore, nella finale, né a due, tantomeno nella semifinale, a tre, e poi c'è poca competitività interna, perché nel momento in cui, butti fuori Ezekiel, che è un personaggio, che boh, potrebbe essere un super villain, in un super rancoroso, cattivo, non si può sapere, e butti fuori Eva, che è il personaggio, che davvero poteva, dare un po' di pepe alla squadra, c'è poca competitività interna, il modo in cui, alla fine si va a buttare fuori l'avversario, è pura strategia numerica, Duncan si allea con Jeff, e poi con DJ, nel frattempo con Curtin, perché stanno insieme, insomma, è una strategia, appunto, numerica, nulla di competitivo, perché di fatto, Duncan ha avuto la possibilità, di andare così avanti, come anche Courtney, insomma, grazie al fatto, che c'erano tanti personaggi, un po' sciacquetta, all'interno della squadra, settima posizione, per i criceti eroici, su sette squadre disputate, tre, sono le sfide, quelle vinte, premettiamo, che siamo su All Stars, e quindi, un grande contro, lo voglio dire con questa frase, chi passa per questa squadra, subisce un trauma, infatti, posso dire di ognuno, forse, forse a parte Zoe, che chiunque, ha subito qualcosa di negativo, Lindsay, è diventata un'oca pazzesca, è tornata ad essere quella dell'isola, quasi succube di Eder, ma a parte questo, un personaggio davvero stupidissimo, Mike, ha subito il trauma, di rivivere, il suo alter ego peggiore, per quanto il suo migliore, come per me spettatore, ma per lui il peggioro, ovvero Mal, Sam l'ho trovato molto fuori luogo, l'ho preferito molto di più a vendetta, vederlo lontano da Dakota, si è visto che l'ha reso piuttosto perplesso, piuttosto rancoroso, si era evitabile il fatto che torni in All Stars, con tutte queste riprese verso Cameron, che sembra Cody, Zoe, forse l'unica di cui non trovo una peculiarità negativa, Cameron stesso, onestamente, il fatto che cambi squadra, addirittura, che venga definito un villain, e lo trovo una scelta traumatica, Courtney addirittura, che deve cambiare con Duncan, non solo dall'idea che Courtney, non è più quella cattiva che conosciamo, ma addirittura che Duncan diventa buono, quindi ripeto, chi pasta per questa squadra, subisce un trauma, i pro comunque sono interessanti, perché tutti i concorrenti, hanno un'esperienza interessante alle spalle, e forse tolto Sam, è quello che ha meno episodi, meno battute, di questa squadra, ma in realtà anche lui ha avuto le sue conquiste amorose, e le sue vittorie in vendetta, ma tolto lui, sono giocatori davvero interessanti, e poi i due vincitori, ovvero Mike e Zoe, che sia nella versione ufficiale o alternativa, effettivamente entrano dai cricetti eroici, quindi una squadra che comunque è messa in questa posizione di media, cui alla fine si è fatta anche valere, sesta posizione per gli orsi confusi, su sette partite giocate, cinque sono state vinte, inizialmente, come già dissi nel contro, vi è un pessimo inizio, perché Beardo e Leonardo fanno capire quello che è il talone d'acquillo di questa squadra, ovvero la demenza, Beardo onestamente non capisco che tipo di personaggio sia, perché sto pensando anche a che stereotipo vada a incontrare, ma di fatto è un personaggio che crea rumori strani, nulla a che vedere con la realtà, con lo stereotipo di qualche adolescente, niente, Leonardo è lo stupido di quartiere, ma davvero con la S maiuscola, e poi c'è Ella, Ella è una ragazzina che si fa molto, non dico influenzare, ma cade in trappola, in maniera forse anche banale, in Genova di Sugar, insomma un inizio non così scoperto, impiettante, però sono interessanti i personaggi, è una squadra vittoriosa, perché di fatto su certe sfide 5 le vincono, dovuto al fatto che vi è shown, che è un personaggio molto leale, onesto, ma anche molto competitivo, c'è Sugar, che ovviamente pur di vincere le prova tutte, subentrerà anche Max, e onestamente sono sincero, la ship, ovvero la relazione fra Dave e Sky, a me non è piaciuta, e mai piacerà, per quanto qualcuno dirà che sono bellissimi insieme, ho rivisto i loro due, i classici cliché, della neocoppia che si crea, un po' in stile Courtney Duncan, o Mike Zoe, quindi vedere il ragazzino, il più sfigatello, diciamo apparentemente, il più smizzo, che si prende la bella ragazza, è una cosa che ho già visto e rivisto, la squadra però, sembra funzionare, perché ripeto, arriva ad essere vittoriosa, perlomeno finché non si scioglie, la quinta squadra, che voglio analizzare, in classifica, è le larve mutanti, che arrivano a vincere, 6 sfide su 8, ovviamente, vi è sia un pro, che un contro, e quello che parlo, è l'aiuto, in diretto di Scott, esso può essere un pro, perché ovviamente, le 6 partite vinte, su queste 6, circa 4-5, sono stati possibili da vincere, grazie a Scott, che sabotò la squadra avversaria, nonché la sua squadra, in realtà, poi entrerà qui, ma prima faceva parte, della squadra, che già analizzai, ma può essere anche un contro, perché effettivamente, non abbiamo visto, quello che è il vero potenziale, di questo team, dato che molto spesso, veniva sabotato, il risultato, da Scott, che tramava contro, i suoi compagni, però, questo è l'unico contro, secondo me, interessante, imponente di questa squadra, di fatto, è vittoriosa, perché numeri alla mano, si può dire di tutto, ma alla fine, la vittoria, l'ha imponata a casa, ben 6 volte su 8, è una squadra interessante, un bel mix di concorrenti, visto che parliamo, comunque, di vendetta, e vedere all'inizio Mike, quindi, con i suoi alter egi, vedere Zoe, che sbava per lui, vedere Cameron, questo insignificante vermicello, che però, molto intelligente, molto astuto, vedere Anna Marie, Brick, che giocano, insomma, una serie di dinamiche interne, non male, e poi abbiamo Cameron finalista, che io lo ritengo, vero vincitore, perché, effettivamente, nella vittoria, poi finale, preferisco lui, a Lightning, dunque, tutto sommato, una squadra, che si merita questa posizione, stiamo arrivando al podio, ma nella quarta posizione, inserisco, gli avvoltoi malvagi, una squadra, dunque, di All Stars, legata ai Villain, su sette sfide disputate, quattro vinte, il contro, che già voglio sottolineare, fin da subito, è la troppa competizione, che forse, arriva a penalizzare, Joe e Lightning, due personaggi, davvero molto sportivi, competitivi, ma che si scontrano, contro delle teste dure, come Eder, Alejandro, Scott, Gwen, Kurt, insomma, personaggi, che conoscono bene, reality, forse Scott è quello, con meno esperienza, ma già, ha dato l'idea, di quello, che ne sapesse più, degli altri, per tanti versi, alla fine, è difficile, che una come Joe, ipotizzabilmente, riuscisse, a buttare giù Eder, sì che poi Eder, non avrà un grande percorso, in All Stars, neanche Alejandro, però, la battaglia contro Joe e Lightning, l'hanno vinta loro due, di fatto, per capire, chi siano un po' i leader, è una squadra, che se dovessi dire, chi sia al capo, non riuscirà a dirlo, perché in questa squadra, tolto Cameron, che è messo qua, in maniera un pochino inutile, non c'è una persona, che riuscirebbe a stare, al comando di qualcun'altra, per cui, sono persone molto forti, anche mentalmente, Duncan, ovviamente, è un personaggio rovinato, e quindi, questo è il contro, o meglio, dico sempre, non rovinato, mi viene a dire questa parola, perché molti la dicono, è un personaggio, che si è fatto vedere, per quello che è, Duncan, è così, Duncan, sa essere cattivo, sa essere scherzoso, dispettoso, litigioso, astuto, simpatico, antipatico, apatico, ma sa essere anche un deficiente, sa essere anche un buonanulla, sa essere anche quello, che ti disegna il coniglietto, nella porta del cesso, insomma, è così Duncan, c'è poco da fare, non è un personaggio rovinato, è una parola che, ripeto, mi viene in mente, perché molti di voi la dicono, e ormai, purtroppo, mi viene in mente, ma, è un personaggio, che ha avuto, la sua possibilità, di farsi valere, nel bene, e nel male, purtroppo, in All Stars, nella parte negativa, nella sua pessima parte, da buono, che non gli rientra, non perché non lo sia, mi ripeto, ma perché Duncan, non è prettamente buono, come non è prettamente cattivo, è quella via di mezzo, che rende Duncan, un gran personaggio, nei pro, comunque, abbiamo dunque, una squadra molto forte, nonché competitiva, e questo accentua, le differenze, fra uno e l'altro, e rende interessante, le dinamiche interne, perché comunque, riuscire a buttare fuori, qualcuno, delle squadre, della squadra, non è per nulla semplice, ogni giocatore, presente in questo team, sa benissimo, di doversi guardare, alle spalle, la ship, la relazione, fra All e Heather, per me, è una delle migliori, in assoluto, nel caso dei reality, che anche loro, per me, concludono un cerchio, per cui, rivederli o meno, così come Duncan, e così come penso, chiunque, di questa squadra, non mi cambia assolutamente niente, perché hanno concluso un ciclo, e poi appunto Scott, che anch'esso, io l'ho sempre detto, lo ritengo, un grande pro, un grande suo vantaggio, perché se in vendetta, si è fatto vedere, come personaggio egoiste, individualista, sabotatore, vendicativo, qui lo è un po' meno, qui è molto affettuoso, e arriva quasi, a conquistarsi, insomma, un personaggio, che a tutto tondo, si è rubito a far valere, nel bene, e non dico nel male, ma anche, insomma, nel suo essere, un pochino strano, nel concepire la vittoria, in vendetta, visto che lui voleva buttare, allo sbaraio, l'intera squadra, insomma, un gran team, che però, ecco, pecca molto, il fatto che si ci scontra, fra tante teste dure, andiamo sul podio, con le marmotte urlanti, il secondo team, legato all'isola, su 12 sfide, ne arriva a vincere 7, è un team, davvero vittorioso, infatti, su 5 giocatori finalisti, nella top 5, 4 su 5, sono marmotte, ci arriva, infatti, Leshan, Gwen, Eder, Owen, e Duncan, Duncan è l'unico personaggio, su 5, presente in finale, della squadra avversaria, ovviamente, le squadre sono già sciolte, ma in ottica, delle squadre, su 5, 4, arrivano dalle marmotte, dunque, vittoriosa, ovviamente, grande pro, sono i personaggi, inseriti, quasi tutti, perché Eder, la si conosce, solamente nell'isola, perché, è l'inizio di tutto, così come Owen, così come Leshan, così anche come Linz, insomma, Tomassogna che ha fatto la storia, anche Trent mi è piaciuto, perché in questa stagione, arriva a conquistarsi Gwen, in maniera non sciocca, l'unici, che forse, mi hanno detto davvero poco, in questa squadra, ma che poi, hanno modo di, potersi riscattare, come già mi dissi altre volte, sono Justin e Noah, ma avranno il loro modo, appunto, di riscattarsi, purtroppo, i due contro, uno è molto soggettivo, perché ce l'ho qua, non posso non dirlo, e l'altro è piuttosto soggettivo, Beth è l'unico personaggio, che mette un po' in discussione, il gruppo, l'integrità di esso, per la sua maledizione, di aver preso il teschio, dall'isola, tiki-taka, come si chiamava, che ha portato, una serie di disavventure, alla squadra stessa, e, qua, fatemelo dire, doveva vincere, le sciana, e questo è un grande contro, io, ancora non capisco, il perché, si è voluto rovinare, ecco, qui è giusto, dire rovinare, un personaggio, con questo percorso, perché, le sciana, doveva vincere, o perlomeno, anche se poi, avesse perso, ma fatemela perdere, in un modo, concorrenziale, con gli altri concorrenti, e non perché, Sedi, o Ezekiel, o un pappagallo, dicono le sciana, senza motivo, allora tu sei fuori, c'è personaggi, che non hanno detto, un cazzo nell'isola, permettetemi francesismo, ma io, ce l'ho davvero qua, buttare fuori le sciana, in questo modo, è stato orribile, tanto più, che poi, in azione, non arriva neanche a vincere, ma viene sfottuta, dalla redazione, perché viene messo, in gioco, quel fatto che, abbia parlato alle spalle, con la sua amica, in vacanza, nel tour, viene presa come, uno zerbino, viene trattata, boh, quindi le sciana, forse è un di quei personaggi, che davvero, meriterebbe, non solo una possibilità ulteriore, ma una vittoria, o perlomeno, un podio conquistato, meritevole, e comunque, siamo in testa posizione, ecco, le sciana, non ha vinto, ma così come, i concorrenti, un grandissimo percorso, ha avuto, la seconda squadra, è la squadra più corta, più stretta in assoluto, la squadra dell'Amazzoni, una squadra, che è riuscita a vincere, otto volte su quindici, di cui, non ho trovato, nessun contro, perché è una squadra, che funziona benissimo, Cody, per quanto non sia una ragazza, riesce ad amalgamarsi, benissimo, con queste quattro, donne supreme, perché, ognuna di queste quattro, ha un carattere forte, persino Sierra, non si fa tanto, abbindolare da Ether, perché capisce subito, e conoscendo bene Ether, in quanto fan del reality, per questo, venne presa da Chris, e beh, Sierra, non si fa mettere in piedi, da nessuno, sono dunque, ragazze determinate, ragazze, che arrivano davvero, a conquistarsi, un bellissimo percorso, io ho amato ogni personaggio, e io penso che Cody, in questa stagione, in questa squadra, sia più ragazza, che ragazzo, perché vederlo sempre, in mezzo a queste belle, quattro pollastre, alla fine fanno Cody, un personaggio, molto più femminile, che maschile, poi c'è la ship, Cody Sierra, che per quanto possa essere, assillante, monotona, ripetitiva, e beh, dobbiamo pensare, che vista con l'occhio, di chi per la prima volta, vede Sierra, e vede Cody, è super divertente, è simpaticissima, come coppia, forse a livello di demenza, di simpatia, è la migliore, e poi ovviamente vince Aether, quindi da questa squadra, abbiamo un vincitore, l'abbiamo anche nella squadra, di Chris, super super figo, con Aleandro, ma per me, la vincitrice, di questa stagione, è meritanamente Aether, poteva quasi vincere, anche Sierra, però non avrebbe avuto senso, perché, insomma, era giusto vedere, una Aether, contro un Aleandro, di quel calibro, e anche lì, poi in All Stars, non solo, dunque, arrivano con la contraprogressa, di aver vinto, ma anche di aver vinto in amore, quindi Aether, e Aether, e mi ripeto, hanno concluso, la loro avventura, per quanto mi riguarda, per sempre, ed ecco qua, gli elettricisti urlanti, questa, è oggettivamente, la squadra, che più ha vinto, su 11 sfide, 8, le portarono a casa, in azione, proprio, gli elettricisti urlanti, e soggettivamente, è una squadra, davvero molto forte, tutti, sono potenziali, vincitori, Duncan, lo è, così come lo è, bette, per la squadra, avversaria, ma io, quando vi di azione, per la prima volta, con occhio, ancora un pochino, inesperto, dunque, senza troppeglicità, già, avendo visto l'isola, mi sono detto, cavolo, che squadra, io, non saprei, chi buttare fuori per primo, perché anche DJ, paradossalmente, che, è il personaggio, che si può magari, in qualche modo, sacrificare, da questi sei, per primo, in realtà, la sua tenerezza, la sua compassione, ne fanno un grandissimo personaggio, che poteva anche vincere, Harold, dopo quello che ha lasciato all'isola, poteva dire ancora di più, e poi c'è Ether, Gwen, Leshan, Duncan, insomma, quattro teste di serie, che arrivarono nella top 5, nell'isola, quattro personaggi, che potenzialmente, potevano vincere, ma per me è chiaro, il DJ, quindi davvero, una grandissima competizione interna, e poi, un equilibrio tra sessi, tre maschi, tre femmine, è oggettivo, il fatto, secondo me, quando vi è un equilibrio, tra maschi e femmine, si arriva a creare, un equilibrio, anche di squadra, infatti, le alleanze, si creano, ma relative, perché il gruppo di maschi, sono quei tre, e il gruppo di femmine, sono quei sate tre, che comunque, già vedere Ether in questa posizione, non è per nulla semplice, dal suo punto di vista, comunque, un gran team, che davvero, farei fatica, a riscrivere la sceneggiatura, di azione, in termini di, eliminati, perché, tra la sua squadra, e quella avversaria, con Justin, Beth e Linz, insomma, forse azione, ha uno dei più bei cast, mai realizzati, poi, in termini di trama, come già dissi, in un precedente video, non mi è molto interessata, perché, c'è poca sopravvivenza, c'è poca competitività, tra squadre, di fatto, ma internamente, c'è assolutamente, e adesso, prima di lasciarvi, ai saluti, voglio dare un piccolo, pensiero, anche ai Don Cruz Race, ovviamente, prendendo in considerazione, le tre coppie più vincenti, le tre coppie, dunque, non squadre, che hanno vinto, più podi, o si sono conquistate, più primi posizioni, Brody e Jeff, i due surfisti, i migliori amici, su 26 sfide, o meglio, 26 puntate, disputate, arrivano dunque, anche a vincere, ovviamente, come sapete, il piano alternativo, si conquistano, ben sette volte, tra la terza, la seconda, e la prima posizione, i podi, insomma, e su queste sette, ben cinque volte, arrivano primi, di cui, anche ovviamente, l'ultima, da vincitori, quindi, una squadra, che comunque, funziona, una coppia, funzionante, Jeff, e io mai me lo sarei aspettato, che un personaggio dell'isola, quindi, vecchissimo, arrivasse a vincere, un reality di questo tipo, al secondo posto, metto, McArthur e Sanders, ma non per simpatia, perché sapete come la penso, a me non piace, né una, né l'altra, per tanti motivi, già ampiamente sviscerati, ma, dati alla mano, loro sono l'ennesima coppia, che arriva a vincere, alternativamente parlando, a Jeff e Brody, su 26 puntate, 12, in 12 di esse, conquistano un podio, quindi, dalla terza, alla prima posizione, e di queste 12, 5 arrivano prime, quindi, comunque, sono sempre lì, quasi sempre, una volta su due, ma chi ha vinto davvero tanto, e non volevo crederci, di quanti podi, hanno conquistato, sono i pattinatori, su 25 puntate, dunque, una in meno, perché non arrivano, alla finale, rispetto alle prime due coppie citate, ben 16 podi, coloro che si definiscono, gli eterni secondi, arrivano comunque, a conquistare, per ben 16 volte, in maniera volte consecutiva, la prima, seconda, o terza posizione, tanto che arrivano a prendersi, per ben 8 volte, il primo posto, incredibile, io, ovviamente, immaginavo, già sapevo, che avessero vinto tanto, perché mi ricordo, la serie l'ho vista, già due volte, però, pensare che su 25 volte, puntate, 16, arriva traguardo, nelle prime posizioni, è pazzesco, e ho messo, le quarte, quinte posizioni, che comunque, all'inizio, fanno pure quelle, quindi, penso che, due volte su tre, i pattinatori, erano sempre, tra i primi posti, incredibile, purtroppo, però, arrivarono terzi, e questo, per me, fu un errore di sceneggiatura, perché meritavano più loro, sì che sono i Villain, e forse non si è voluto osare, ma avrei preferito, loro due, a Jeff e Brody, e non perché, questi ultimi citati, non hanno avuto, le potenzialità di vincere, ma perché vennero ripescati, e già questa cosa, poi di farli vincere, non mi è piaciuta, e poi, sono due personaggi, sì, interessanti, molto fotocopie l'un dell'altro, ma che, non hanno dato quel pepe, quella frizzantezza, le sfide, loro due, così come Senni e Senni e MacArthur, per quanto a me non piacciono, insomma, sono due coppie, davvero meritevoli, di vivere questo percorso, e le slide terminano qua, nonché questa mia lunga, e prolista presentazione, ho impiegato tanto, tantissimo, a realizzare tutto ciò, è stato, dunque, uno studio, una ricerca, di ogni concorrente presente, di ogni sfida vinta, insomma, una serie di ricordi, che ho dovuto rinscatolare, per questo video, inserendo i pro e contro, più determinanti, oggettivamente, e soggettivamente parlando, insomma, un lavoro che spero, che vi sia interessato, io, sono estremamente sincero, penso di avere, ancora due idee video, perché, a questo punto, ve lo posso dire, ma, ad oggi, devo ancora registrarle, ma, dopo questi ulteriori due video, io, veramente, non saprei più cosa fare, perché, questo delle squadre, nessuno me lo consigliò, almeno ad oggi, quando registro, ma, effettivamente, è importante, secondo me, dare pure questa analisi, di questo importante elemento, appunto, che sono le squadre, che rendono, quello che è reality, che conosciamo, ma, dopo di ciò, non so, davvero, cosa mi manchi, da arrivare, ad analizzare, aspettando, davvero, che quest'estate, escano nuove novità, in merito, alla nuova stagione, perché, ho perso le idee, cara Fresh TV, fai uscire qualcosa, di nuovo, perché, il Blaster HD, che si professa, esperto, in tutorial, non sa più, di che parlare, per oggi, è tutto, termino, facendovi rivedere, i primi classificati, almeno per me, e ci vediamo, a una prossima, video, a una prossima, tier list, analisi, quello che mi verrà in mente, ciao ragazzi, alla prossima.